Non ce l'ha fatta Peter De Vries, il giornalista investigativo olandese ferito gravemente alla testa da colpi d'arma da fuoco il 6 luglio ad Amsterdam. I 64 anni è morto in ospedale dopo giorni di agonia. De Vries, cronista di nera conosciuto per le sue inchieste sul crimine organizzato nei Paesi Bassi, era stato raggiunto da almeno 5 colpi di pistola intorno all'ora di cena mentre lasciava lo studio di un talk show nel quale era ospite. Due uomini, un cittadino polacco di 35 anni e un olandese di 21, sospettati di essere gli autori dell'attacco, erano stati fermati poco dopo i fatti e si trovano ora in detenzione provvisoria. De Vries è stato testimone diretto portavoce delle vittime in alcuni casi criminali nel suo Paese e per questo ha ricevuto diverse minacce di morte durante la sua carriera. L'aggressione mortale ha provocato numerose reazioni da parte di giornalisti e personalità politiche anche oltre confine.